Telegrafare in campo aperto, pugno, guerra, poi terra, di chi? Di chi è la miseria? Padre dello sfidimento, ad agio, stanca, lento, le braccia abbracciano, maggio, semina, tormento. Ciò che rimane giugno, vuoto, disperato, distante, con d'assoluto orgoglio, pronto a salpare, partire, ma niente, acqua, solo sale, cristallo esagonale, in barco sbagliato che squalifica, pena e rimborso, un piombo, morto senza gambe, in un trapassato soldato che sulla schiena ricorda il peso moribondo del corpo di un agguato che, se vuoi sapere il paradiso, muori, muori, detratta la tara per essere netto.